...di più segreti che vedo che arrivano i fisici. Sono i veri intenditori di musica, i veri meloni. Per la merda. Per la merda. Ecco, parlo qui sotto. Per la merda. Musica 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 ... ... ... No, ma l'hai già accattato? L'ho detto già, me l'aveva già detto. Dopo Masserizzo ha detto no, ma l'hai già accattato. Quelle cose che bisogna coperarsene. No, ma l'hai già accattato? 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 Ma l'hai già accattato? Ma l'hai già accattato? Ma l'hai già accattato?